Se l'abbiamo sentito già nella preparazione, speriamo questo anno di dargli quella felicità che meritano. La squadra ci sta, c'è anche qualità, ma dobbiamo migliorarci per credere a quello che veramente vogliamo. Dentro il campo, bene, penso che la squadra gira bene, sta giocando bene. Come ho detto prima, dobbiamo migliorarci in tanti aspetti ancora, perché siamo una squadra giovane, ma ci troviamo bene, si lavora con tanto entusiasmo, che è quello anche buono. Ha tantissimi giocatori di qualità, perché non solo quelli che gioca, sino quelli che rimano fuori e stanno alla grande. E con il mister, come ho detto prima, bene, un grandissimo rapporto. Devo tanto a lui come al suo staff, quindi sempre a disposizione. Cagliari ha dimostrato nelle ultime due partite di stare a livello, squadra tosta, sicuramente. Troveremo qualche difficoltà, come è il calcio italiano, ma dobbiamo giocarsi là, se veramente, come ho detto prima, vogliamo arrivare all'oggettivo che abbiamo messo a cominciare la stazione. L'oggettivo è chiaro, lo abbiamo detto, stare dentro i quattro, i Champions. Quello è l'oggettivo chiaro, che ci abbiamo messo, che dobbiamo essere veramente la scistella di questa squadra, che ha qualità, non sarà niente facile, sicuramente, ma quelli sono i posti che merita il Milan. Ia Gonzalo lo vedo alla grande, è bene, è felice, ha voluto venire qua, sa dove si trova, quindi niente, speriamo che fa il gol pronto, perché è quello che fa vivere un attaccante. Grazie.